Il territorio, vogliamo che il territorio sia parte attiva, naturalmente ci mettiamo il sostegno del territorio, del fusiato del territorio, sia la domenica privata, sia la domenica privata, che oggi tra l'altro in piacere non abbiamo messo il presente in forza. Le tratte che saranno interessanti? Le tratte sono, le entrate di linea sono Bruxelles, operativo il lunedì mattina e il sole di sera, a servizio di investimento di istituzioni comunitarie, Ginevra, lunedì mattina e il sole di sera, Zurico, mercoledì e giovedì, e a Trieste, martedì, giovedì e venerdì, e a Barcellona è uscita in venerdì e tornerì, di tanto a questo c'è una componente che vuole charter, che andrà a essere sviluppata da Barcellona. Le tratte che stiamo sviluppando soprattutto per il settore business, che sicuramente è più la beneficia, ma è più la beneficia. Certamente le tratte nascono con attenzione al business, o se Barcellona è una tratte a più di definizione turistica. Naturalmente riteniamo di essere un buono strumento anche per fare il cambio turistico verso l'Alguria, il nostro sistema paese insensurato come l'Italia, che soffre di stagionalità, anche in Alguria non fa eccezioni, pensiamo di essere, partendo in inverno, quando gli altri lettori calivano la maggiorità, di essere in realtà una risposta per la distagionalizzazione che stagionalizzano. Che tipo di velivoli siano utilizzati? I velivoli utilizzati sono degli ATR 72 500, 68 posti, sono presi in leasing operativo, sono rempionati a 0 ore, quindi sono avvenuti gli effetti nuovi e intorno a ripetere il condotto del personale. Non sono possibili, sono già state fatte questa mattina una serie di colloqui, abbiamo un rispondo molto positivo e un grande interesse. Cosa vuol fare sicuramente per il tempo di questo rapporto, per il video share di ciò di potenza e di potenza? Noi ce lo vorremmo, sicuramente non possiamo essere gli unici a fare il solito sforzo, per ripetere il supporto da parte delle commissioni, dei territori e delle comunità. Ci aspettiamo sicuramente questo elemento che stiamo in futuro. Chiaramente Play Balance ce lo mette tutta, c'è anche il tuo startup, come tutti i soggetti di start-up potrebbe esserci qualcuno che pensi a stare alla larga, lo richiamo a tutti a provare perché sarà un volo di qualità. Non siamo un vettore alla posta, siamo un vettore che è venuta ad essere boutique, a quello di qualità, dei servizi sviluppati anche a terra, ma a tutti ciò 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 ciò. Grazie a tutti.